Sei pronto? No. Allora, aspetta, posiziono. Però ci vorrebbe anche un... Set da camera caffè. Vieni qua. Vai a prendere un caffè. Ci va che nuore? Ma no, ma arriva qui, no? Aspetta che... Massimo, cos'hai trovato? Dov'è? Secondo te, qual è il migliore di questi? No, no, mi devo mettere a leggere un po'. No, no, ma più che altro sotto... No, no, mitico, mitico, mitico servus.